La boutique del pane, pane caldo dal 1956 Per la Cavese sarà fondamentale vincere e soprattutto giocare bene. La sconfitta di domenica scorsa in campo esterno con l'Igea ha fatto sorgere tra i tifosi aquilotti un interrogativo. Se la loro squadra oggi sia realmente in grado di lottare per i vertici. Domani a Lamberti arriva la Versa Normanna, gruppo giovane che ha voglia di crescere e in partite come questa si dovrà notare il tasso tecnico che dovrebbe essere maggiore per gli uomini di Emilio Longo. La vera novità rispetto a domenica scorsa potrebbe essere il rientro a centro campo di Armenise con Golia in ballottaggio con Bellante in attacco. A disposizione dovrebbe esserci anche il terzino destro Ciro Castaldo, tesserato della Cavese giovedì ed è destinato a giocarsi il posto con Padovano. Proprio Carmine Padovano che ha giocato da difensore destro le ultime due partite dei Bianco-Blu ha presentato quella che sarà la partita di domani. Sì, io penso che siamo una squadra costruita per giocare bene quindi domenica andremo in campo per fare la nostra partita e cercare di vincere anche perché veniamo da un risultato poco positivo e quindi ci teniamo anche davanti ai nostri tifosi a fare una buona partita, una bella figura. La Versa Normanna che è una squadra piuttosto giovane, i giocatori sono nati quasi tutti negli anni 90, come si può avere ragione di una compagine strutturata così? Io penso che noi più che la Versa Normanna dobbiamo pensare a noi perché siamo la Cavese quindi non dobbiamo farci problemi di tante squadre. Con molta umiltà dobbiamo affrontare questa partita da squadra, da gruppo e poi penso che se faremo queste cose il risultato ci darà ragione.